Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati! Io sono Antonio e faccio parte di Pottercast. Pottercast è un collettivo che è formato da me, da Rudy di ThePotterbook85, Graziano, Movera Collectables e Alessio Salitore Art, che assolutamente dovete seguire su Instagram insieme a tutti gli altri, perché sono dei ragazzi super super in gamba, artisti, collezionisti e chi più ne ha più ne metta. Noi ogni settimana su YouTube, sul canale Pottercast, vedete qui il logo del nostro canale, andiamo in live e trascorriamo un'ora, un'ora e mezza assieme a voi a commentare e a parlare di collezionismo, anche insieme a ospiti abbiamo avuto Serena Riglietti, l'illustratrice della prima edizione di Harry Potter italiana, abbiamo avuto Francesco Verano, voce di Severus Peaton nella serie a film di Harry Potter e poi anche Mastro André Hill e tantissimi altri ospiti. Detto ciò, i nostri amici, i miei amici di Pottercast, il mese scorso sono andati a Parigi, nel caso particolare Alessio e Graziano, le loro ragazze Diana e Giorgia, sono andati a Parigi per il Dreamit, la convention a tema Harry Potter che si è tenuta appunto in Francia, dove erano presenti alcuni degli attori del cast della saga cinematografica appunto di Harry Potter. Era presente Ron, Rupert Grint, era presente Dean Thomas, Sims Finnegan, era presente anche l'attore che ha interpretato Neville, Lavanda Brown e anche i gemelli Phelps che hanno interpretato Fred e George Weasley. Quindi era davvero un grandissimo evento dove loro hanno preso parte e da dove hanno portato a casa di tutto, hanno portato a casa autografi su card, sui nostri oggetti che abbiamo realizzato per l'incontro che abbiamo fatto con Sean Biggerstaff, l'attore che ha interpretato Oliver Wood, Oliver Buston, nel primo film di Harry Potter, vi ricorderete se ci seguite da tempo, che a dicembre abbiamo appunto preso parte a questo incontro con quest'attore, abbiamo realizzato la Mazza, la Quidditch, la Coppa del Torneo delle Case e la Pluffa, tutti realizzati da Alessio Salitore e anche dal Marchingegno nel caso della Mazza, con sempre la mano di Alessio. E naturalmente questi oggetti sono stati portati anche lì a Parigi e abbiamo delle foto e dei video bellissimi su Instagram, vi consiglio di seguire sia Pottercast come sempre che anche gli altri ragazzi, vi lascio tutto sotto in info box, perché trovate dei reel e dei video dei gemelli Phelps e di Ron, di Rupert Grint, che giocano con la pluffa che abbiamo realizzato per l'evento di Sean Biggerstaff e che hanno firmato anche loro e davvero sono rimasti super super colpiti da questa pluffa, l'hanno tenuta in mano, l'hanno lanciata, è davvero una soddisfazione enorme per tutti noi il fatto che questo prodotto sia stato così tanto apprezzato appunto dagli attori della saga, addirittura Lavanda Brown ha voluto fotografare col suo telefono la lastra di vetro con il cuore, le iniziali di Ron Lavanda che fece sul finestrino del treno nel film, che è stato replicato da Alessio su un vetro, che si è fatto fotografare, è stato fotografato dall'attrice e poi è stato anche pubblicato sui suoi social. Quindi davvero ragazzi, stiamo raggiungendo degli obiettivi che mai ci saremmo sognati, delle soddisfazioni grandissime e ancora chissà quante altre ne verranno. Ma detto questo, io da questa convention non avevo chiesto nulla ai miei amici, non avevo chiesto nessun autografo e niente, perché già stavano andando loro, si stavano facendo filmare tantissime cose per loro e io ero felicissimo che avessero loro queste autografi perché avendoli loro è un po' come se le avessi anch'io nella mia collezione, visto che siamo uniti in questa passione, in questo progetto, quindi per me era sufficiente che gli avessero loro. Detto questo, invece, hanno deciso di farmi un regalo di compleanno anticipato e si sono presentati a casa con questo. Ragazzi, guardate che meraviglia! In questo caso si tratta della strillettera. Questa strillettera è magnetica, si può staccare da questo supporto. È una strillettera realizzata in cartoncino, pergamena, tessuto, è un origami in poche parole. Ed è fedelissimo a quello del film, alla strillettera del film. Questa è stata realizzata da Diana e la troverete ad Etna Comics, col suo supporto magnetico e la sua base in plexiglass. Come vedete, questa qui si attacca da sola al supporto tramite un magnete e sembra quasi galleggiare in aria e urlare. Solo che, nel caso specifico, questa basetta è stata fatta personalizzata per me, ma ci sono altre due copie di questa basetta, una in possesso di Rudy e un'altra in possesso di Graziano, dove all'interno è stata posta questa fotografia di Ron, che fissa la strillettera urlante, e questa foto è stata autografata a mano, naturalmente, da Ron, quindi da Rupert Grint. E mi è stato fatto questo regalo davvero, per me, inestimabile, bellissimo. Hanno anche realizzato questo sigillo in ceralacca andando a ricreare la W, identica a quella presente sulla strillettera, quella realizzata da Mina Lima, ed è veramente qualcosa di meraviglioso, secondo me. Io non pensavo mai nella vita di poter avere l'autografo di Rupert, e invece i miei amici mi hanno fatto questa sorpresa, questo graditissimo regalo, che non dovevano assolutamente fare, perché è stata una follia, ma io non posso fare altro che ringraziarli, abbracciarli fortissimo, perché è davvero un regalo che ti lascia senza parole, e sono super, super contento. Ovvio, secondo me, questo è un pezzo da museo, cioè potrebbe stare benissimo agli studios di Londra, lì in esposizione, perché abbiamo questa foto firmata da Rupert, e poi questa strillettera, che è fantastica, è davvero bellissima, è uguale, identica a quella del film, e ragazzi, potrete trovarla al nostro stand di Etna Comics, in quantità molto limitata, perché comunque è abbastanza complessa da realizzare, e quindi io vi consiglio di non mancare al nostro stand, se sarete a Catania durante Etna Comics a giugno. Io volevo mostrarvela, volevo fare questo breve video, per farvi vedere in anteprima sia la strillettera, sia il regalo che mi è stato fatto, e che va aggiunto alla mia collezione, e ragazzi, io come sempre, vi consiglio di seguire Pottercast, perché, come vedete, ogni settimana nasce qualcosa di nuovo, un nuovo progetto, una nuova opportunità per tutti, non solo per noi, ma anche per la community, di poter condividere esperienze, di poter recuperare oggetti, firme, perché abbiamo amici, persone che ci seguono, che vanno in giro per l'Europa a incontrare gli attori, e che si prestano ben volentieri a scambi di favori, per poterci portare autografi a vicenda, e aiutarci a realizzare quello che vogliamo. Quindi siamo molto felici della nostra community, di quello che stiamo realizzando, non vediamo l'ora di vedervi ad Etna Comics, e spero vi piaccia tantissimo anche la nostra strillettera, perché secondo me è qualcosa di pazzesco. Detto questo, ragazzi, io chiudo il becco, vi saluto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, iscrivervi al canale di Pottercast, è importantissimo, seguirci su tutti su Instagram, Pottercast, Antonio.seria, ThePotterBuc85, Alessio Salitore Art, Movera Collectibles, seguitici tutti, perché più siamo, e più cose interessanti, riusciamo a fare tutti insieme. Detto questo, a questo punto davvero, chiudo il becco, e vi do appuntamento, alla prossima. Ciao! Ciao!